Benvenuti su meteogiuliacci.it. Dopodomani, giovedì 20 settembre, migliora il tempo sulle regioni del nord Italia, ancora un po' di nuvolosità con qualche fenomeno al centro per la coda della perturbazione numero 3 che ormai si è allontanata verso la penisola balcanica. Andiamo a vedere infatti l'immagine del satellite virtuale. Vedete il sereno che è ritornato su gran parte dell'Italia, vedete questa nuvolosità che appartiene ormai alla coda della perturbazione che si è allontanata dalla nostra penisola. Andiamo a vedere il tempo per la giornata di giovedì. Al martino, cielo sereno al nord sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Molte nuvole invece sulle regioni centrali con qualche pioggia in particolare sul versante adriatico e sulla campagna. Poi però nel pomeriggio vedete che la situazione tende a migliorare. La nuvolosità insidierà soltanto il basso adriatico con qualche pioggia possibile solo sul foggiano. Per il resto, cielo sereno al più poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno stazionarie su valori per lo più compresi tra 19 e 24 gradi al centro nord, tra 26 e 27 gradi sulle isole maggiori con ancora qualche punta di 30 gradi sulla Sicilia orientale. Bene, termino qui. Vi ringrazio per l'ascolto. Ancora una buona giornata.